Un omaggio, una mascherina della Regione Veneto. Prosegue la distribuzione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione Veneto che già ieri erano disponibili gratuitamente in 41 supermercati cittadini. Nuovi quantitativi si rendono disponibili man mano che la Regione li riceve dall'azienda produttrice e sono subito messi in distribuzione. Si allunga anche la lista dei punti di distribuzione. Gli schemi protettivi si troveranno infatti in 9 parafarmacie e in 15 nuovi supermercati. Si intanto è concluso il primo ciclo di pulizie e sanificazione straordinaria dei quartieri cittadini. Da venerdì le idropulitrici torneranno però in azione. Sono state individuate 600 aree strategiche davanti ai supermercati, le poste, le banche, le edicole e le tabaccherie. Anche l'incontro tra i vertici dell'azienda ospedaliera e il team cinese di esperti sul coronavirus ha avuto un ruolo. L'esperienza maturata ha consigliato di intervenire anche specificatamente nell'area ospedaliera e così è stato fatto negli scorsi giorni e verrà ripetuto ad ogni richiesta.